FOTOGRAFIA! Dimmi Renè! Ma che cazzo vuoi, tu, Duccio? Oh, Duccio, senti! Ti ha dato problemi, ragazzi. No, volevo questo carrello lungo... No, non è male. Allora possiamo rimettere sul vecchio gruppo. Scordatelo. Ammazzato una contessa. Ghile è troppo beee! La commedia va bene, però non deve fare ridere. Ma che cazzo di commedia è essa? Non fa ridere!